Buongiorno Friuli e buona domenica. Domenica 30 settembre. Noi siamo pronti anche in questa giornata di festa per iniziare la nostra rassegna stampa. Tra poco inizieremo dando uno sguardo alle aperture dei principali quotidiani nazionali. Prima però come sempre apriamo la finestra sul nostro Friuli Venezia Giulia, una finestra che oggi ci mostra la città di Maniago, la piazza centrale del paese dove in questo momento ci sono circa 14 gradi. A Udine 13 gradi e 4 decimi. A Gorizia 13 gradi. Qualche grado in più sulla costa 14 e 8 a Trieste. 13 gradi e mezzo a Pordenone salendo in montagna. Abbiamo 11 gradi e 7 a Tolmezzo. 6 gradi e 4 decimi a Tarvisio. 2 gradi sul monte Lussari. La giornata di oggi ci dicono gli esperti dello Smerarpa sarà caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso sulla fascia orientale della regione. Mentre ad ovest avremo cielo da poco nuvoloso variabile con maggiore nuvolosità al mattino e verso il cadore e più sole nel pomeriggio. Sulla costa al mattino soffierà bora moderata dal pomeriggio Brezza. Le temperature massime raggiungeranno oggi i 18-21 gradi in pianura e sulla costa 7-10 gradi di minima in pianura. Andiamo a vedere velocemente anche qual è la situazione viabilità sulle principali autostrade della regione sulla A4 in particolare dove è ancora chiuso il tratto tra la Tisana e il nodo autostradale di Palmanova. Ecco l'avviso che troviamo sulla prima pagina del sito di Info Viaggiando. Dunque è chiuso il tratto tra la Tisana e Bivio A4 A23 per una serie di lavori rientranti nell'ambito degli interventi per la realizzazione della terza corsia. Lavori che consentiranno di spostare il traffico dalle vecchie, diciamo così, carreggiate alle nuove realizzate appunto proprio per la terza corsia. Segnaliamo anche il vento forte tra Villesse e Sistiana. Ecco anche in questo caso l'avviso sulla pagina Info Traffico di Autovie Venete. E allora iniziamo adesso la nostra rassegna stampa. Andiamo subito sulle prime pagine dei quotidiani nazionali dove tiene ancora banco la manovra di bilancio e lo sforamento del 2% del rapporto tra deficit e PIL. Ecco il Corriere della Sera che apre con il richiamo del Presidente della Repubblica Mattarella sui conti. Per la Costituzione un dovere tenerli in ordine. Queste le parole di Mattarella che ha citato l'articolo 97 della Costituzione. La risposta del Premier, la carta non impone la linea economica. Salvini, al colle, è lecito cambiare rotta, dell'Europa me ne frego, polemiche su boccia, Presidente di Confindustria che abbraccia la Lega. Andiamo a centro pagina adesso dove vediamo la fotonotizia che ci arriva da Venezia. Uno dei leoni di San Marco imbrattato, il leoncino imbrattato, uno sfregio a Venezia. L'azione di quattro giovani che sono stati ripresi dalle telecamere. Andiamo anche sulla prima pagina di Repubblica adesso. Vediamo anche qui Mattarella primo stop al governo. Conti a posto, pensare ai giovani. Queste le parole delle persone del capo dello Stato. Giorgetti rassicura il colle, anche noi temiamo i mercati, ma Savona rilancia e dice guerra all'Unione Europea. E su Repubblica abbiamo un editoriale di Eugenio Scalfari dal titolo Il segno del Quirinale sull'azzardo populista e in un passaggio Scalfari sottolinea che siamo in un paese che ha una dittatura non soltanto di fatto, quella c'è già, ma di diritto. Quanto è accaduto in settimana non è più premessa la dittatura, ma un passo avanti che ne conferma i pericoli. L'alleanza tra razzismo e populismo ha piegato alcuni ministri e si è addirittura imposta al capo dello Stato, Sergio Mattarella. Questo è l'aspetto più preoccupante tra quelli verificati, sì, un precedente che finora non avevamo ancora visto. Queste le parole di Eugenio Scalfari. E poi, sempre sulla prima pagina di Repubblica, andiamo in Spagna, andiamo a Barcellona, dove ieri ci sono stati momenti di tensione durante una manifestazione degli agenti della Polizia che chiedevano un aumento salariale, c'è stato un intervento degli indipendentisti che ha lanciato degli spray colorati, della polvere colorata sul corteo. Scontri un anno dopo il referendum. L'ex presidente del Parlamento catalano dice prigioniera politica nella Spagna liberale. Ecco qua la foto notizia e il titolo. Chiudiamo Repubblica adesso e andiamo a vedere velocemente anche la prima pagina del manifesto. Anche qui la notizia di apertura è la stessa. Il manifesto titola Collisione. Duro avvertimento di Mattarella al governo che sfonda il tetto del deficit. La Costituzione impone equilibrio di bilancio e sostenibilità del debito. Sfida sulla manovra che il Quirinale deve firmare ma Salvini già risponde picche e in un comizio chiama i fischi contro il Colle. Andiamo a vedere anche la prima pagina del giornale che sottolinea in apertura gli effetti del reddito di cittadinanza visto come tassa di cittadinanza che costerà 570 euro a testa per pagare i fannulloni scrive il giornale. Il reddito a chi sta sul divano a carico di chi lavora e Berlusconi dice farà male agli italiani. Dalle giornale andiamo adesso anche sulla prima pagina del fatto quotidiano che apre con un'intervista al ministro degli affari europei Savona che dice tranquilli vogliamo ridurre il debito col PIL al più 3%. Savona anticipa al fatto quotidiano i dettagli della manovra. Sulle 24 ore abbiamo invece un'intervista al ministro dell'economia Tria che dice ecco perché resto ministro debito giù di un punto all'anno. Tria dice puntiamo su una crescita all'1,6% nel 2019 con il rilancio degli investimenti. Clausola di salvaguardia sulla spesa se non raggiungiamo gli obiettivi. D'accordo con Mattarella il pareggio resta l'obiettivo senza intesa nel governo avremmo avuto rischi di instabilità politica e ancora bassa crescita. Queste le parole di Giovanni Tria. Andiamo a vedere adesso anche la prima pagina del Gazzettino quotidiano del nord-est manovra alto là del Quirinale Mattarella la carta chiede bilanci in ordine il ministro Salvini di Bruxelles me ne frego e poi le parole del presidente di Confindustria Boccia che dice crediamo fortemente nella Lega Calenda Confindustria Leghista. Vergogna queste le parole di Carlo Calenda. E poi vediamo sulla prima pagina del Gazzettino questo fatto di cronaca che poi riprenderemo quando andremo sui quotidiani locali. Rapinano e pestano un ragazzo poi mettono il video su internet. Shock a Lignano vittima un sedicenne padovano denunciati due friulani. Poi andremo sui quotidiani locali approfondiremo bene questa notizia. Prima però un flash anche sulla Gazzetta dello Sport così vediamo anche i principali titoli sportivi di oggi. C'è il calcio con la vittoria della Juve contro il Napoli in apertura. Ecco il titolo. Marziani strapotere bianconero è 7 bellissimo. Ronaldo in venta la Juve schianta il Napoli in rimonta con Mandzukic, Doppietta e Bonucci. 3 a 1 e fuga a più 6. E poi sempre in casa Juve clamoroso Marotta lascia. Ecco perché della decisione via la D della Juve più peso a Nedved e Paratici. Poi approfondiremo come sempre nella seconda parte del nostro buongiorno Friuli tutte le notizie sportive. Adesso è il momento di andare sui quotidiani locali. Dicevamo prima del fatto di cronaca di cui abbiamo letto anche sul gazzettino del nord-est. Allora riprendiamo la nostra rassegna proprio dalla prima pagina del gazzettino del Friuli e vediamo in apertura. Massacrato di botte in spiaggia. Il filmato del pestaggio a Lignano è finito nelle mani della polizia. Due minorenni friulani sono stati denunciati. Venerdì le perquisizioni. Dopo il fatto la vittima ha riportato una prognosi di 30 giorni. Il sindaco di Lignano Fanotto dice non ricordo un episodio di questa violenza. E vediamo un colpo alla nuca, poi calci e pugni. Un pestaggio violento. Una notte di luglio sulla spiaggia di Lignano. Il video registrato da uno degli aggressori con il telefonino finisce su whatsapp. La polizia di Udine lo intercetta. Partono le indagini. Viene identificata la vittima all'epoca dei fatti, 17enne del Veneto, che dopo essere stato picchiato ha avuto una prognosi iniziale di 30 giorni. E vengono identificati i presunti aggressori, due sedicenni friulani, che vengono denunciati a piede libero. Venerdì nelle loro case i poliziotti hanno effettuato delle perquisizioni, ma il legal di fiducia di uno dei due minori respinge al mittente ogni accusa. Questa è la prima pagina del Gazzettino del Friuli. Poi vediamo a pagina 3 del fascicolo locale tutti i particolari di questa vicenda. L'estate violenta di Lignano. Pestaggio senza precedenti. Ecco qua. Dalle minacce due minoranni udinesi sono passati alle botte. Ti uccido, dammi i soldi e il telefonino. E poi vediamo anche il parere dell'esperta Angelica Giancola che cura lo sportello antibullismo a Cividale e dice adolescenti spinti a fare cose assurde pur di ottenere un mi piace, un like sul web. Questa è l'apertura del Gazzettino. Andiamo a vedere subito anche la stessa notizia sulle pagine del Messaggero Veneto. Siamo sul Messaggero Veneto di Udine e vediamo appunto la rapina social fra minorenni. Ecco qua il titolo del Messaggero Veneto. Minacciano e picchiano a sangue un coetaneo, filmano l'aggressione mentre gli prendono i soldi e il cellulare postano il video su WhatsApp finché le immagini arrivano alla polizia di Udine denunciati due friulali. Poi nelle pagine interne anche qui abbiamo l'articolo che ci riassume la vicenda, il fatto di cronaca e poi i risultati di un'indagine dell'Istituto di Sociologia Internazionale che ha rilevato le opinioni di 5.621 studenti delle medie, un questionario dal quale è emerso che umiliano e usano le mani gli adolescenti di oggi sono sempre più prepotenti. E poi ancora, dalle primarie alle superiori, uno studente su tre è vittima di cyberbullismo. Aprile non un convegno su una vera emergenza sociale. Gli smartphone devono stare fuori dalle aule. Questo il titolo di apertura del Messaggero Veneto di Udine. Ritorniamo adesso sulla prima pagina, poi ritorneremo anche sul gazzettino e continuiamo l'analisi della prima del Messaggero Veneto di Udine. C'è un fatto di cronaca in primo piano, un altro fatto di cronaca, una fiammata improvvisa da una bombola d'ossigeno in una scuola per sub di Udine. Fiammata improvvisa da una bombola, ustionati due istruttori. è successo al circolo friulana subacquei di Udine a causare questa fiammata, il malfunzionamento della rubinetteria di una bombola d'ossigeno di tipo Dan che viene utilizzata in caso di emergenza. E poi ancora, sempre per quanto riguarda la cronaca, vediamo furti nelle case della bassa in cella tre fratelli Rom, un'operazione dei carabinieri di Palmanova che ha portato all'arresto di tre persone, sospettate di aver messo a segno diversi furti nella bassa friulana da Aquileia a Gonars. E poi ancora esplosione nella notte, assalti a due bancomat, bottino di 70 mila euro a San Giorgio di Nogaro e a Teor. Ieri a Villa Manin un convegno sulle cimici, contro le cimici nasce l'alleanza con Veneto ed Emilia Romagna. La zona del medio friuli è la più colpita dall'invasione della cimice marmorata asiatica. Ieri appunto un convegno per cercare di capire come intervenire. E poi si parla anche dei prodotti caratteristici venduti all'estero ma taroccati. In Canada c'è il formaggio friulano taroccato, si producono ben 364 mila chili, un'enormità di pecorino friulano che evidentemente di friulano non ha nulla. E poi il risparmio conti dimenticati in friuli Venezia Giulia 520 da riscuotere. Soldi dimenticati e mai reclamati da vent'anni dai titolari o dai familiari che ne hanno diritto. In conti dormienti dove nel tempo non c'è stato un prelievo, un versamento, un pagamento con la carta di credito o la richiesta del saldo. In friuli Venezia Giulia ce ne sono ancora 520 per un valore complessivo che potrebbe sfiorare secondo una stima indicativa di 8 milioni di euro. E poi abbiamo tutto l'articolo nella prima pagina del fascicolo dedicato all'economia ultime settimane per poterli riscuotere. Ricorda il messaggero. Ecco come chiedere i rimborsi. Per cercare un proprio deposito in letargo si può consultare la banca dati CONSAP. sottolinea ancora questo articolo che chiama in causa anche i consumatori attivi con Barbara Puschiasi se anche il CODA CONSAP. Ritorniamo in prima pagina sempre messaggero Veneto di Udine. Andiamo nel taglio basso dove troviamo la storia della domenica. È la storia di Luigi Maresca, milanese di nascita, ma Tolmezino d'adozione che è uno degli scenografi di X Factor. Il ragazzo carnico fa lo scenografo nel talent show. Nel taglio alto invece spazio allo sport con l'Udinese che riparte da Bologna. Si gioca oggi, ricordiamolo, alle 12.30. E poi per il ciclismo il giorno del mondiale la sfida di De Marchi a Lignano, protagonista il triathlon in questi giorni. Il grande triathlon riempie Lignano. Siamo sul messaggero Veneto di Udine. Allora andiamo nelle pagine interne. Andiamo sulla prima pagina del fascicolo dedicato alla città. Si parla della sospensione del servizio di Officine Giovani. Il comune ferma Officine Giovani senza musica. Udine è una città morta, scrive il messaggero. Era lo spazio dove provavano molte band udinesi. Il musicista Daniele Giavon potevano fare qualcosa per salvarlo. Dice Officine Giovani comunque non chiuderà, ha affermato l'assessore di Udine, l'assessore Ciani, ma verrà rilanciato con la creazione di nuovi servizi. Il nostro obiettivo è fare un investimento che porti un ritorno. Tenere aperto un luogo per molte ore al giorno senza però vederlo utilizzato del tutto non ha senso. L'assessore vuole coinvolgere chi è direttamente coinvolto. Sono disponibili a incontrare tutti coloro che hanno in mente proposte per riprogettare il servizio. E poi vediamo anche le parole dell'ex assessore Pirone che dice faremo di tutto per evitare la chiusura. Dal messaggero Veneto di Udine ci spostiamo adesso sulle pagine del messaggero Veneto di Pordenone. Vediamo in apertura la stessa notizia. Andiamo allora subito sulla fotonotizia che troviamo a centropagina. Ci parla della festa della polizia che ieri ha celebrato il patrono San Michele Arcangelo a Udine. La cerimonia si è parco strappato agli spacciatori. Una scelta di alta valenza simbolica. Il questore Marco Dorisio ha sottolineato nel suo intervento di fronte ai rappresentanti delle altre forze dell'ordine proprio la particolarità e il significato della location scelta per questa cerimonia. E poi per quanto riguarda la cronaca vediamo di spalla un aggiornamento sull'omicidio di Fontana Fredda ieri è stata fatta l'autopsia sul corpo della vittima sparatoria. Quattro colpi, uno solo fatale. Coltro morto in pochi minuti. E poi vediamo anche qui l'articolo nelle pagine interne. colpo nel cranio e la fine quasi istantanea. L'autopsia su coltro, il proiettile letale ha causato subito edema e perdita di conoscenza. In tutto sono stati quattro gli spari. Intanto gli investigatori stringono il cerchio, si cerca il movente negli ambienti locali. e poi parlano i dipendenti del centro commerciale, una folla, nessuno ha visto. Impossibile notare tutti quelli che passano. Andiamo a vedere anche la prima pagina del fascicolo di Pordenone del messaggero Veneto. Ecco il titolo di apertura. Si parla della nuova Lozer, bando aperto ai progettisti di tutta Italia. La prossima settimana al Via Libera in Giunta. Il primo step vale 700 mila euro. l'assessore De Bortoli dice sarà all'avanguardia anche per il risparmio energetico la nuova scuola. Chiudiamo il messaggero Veneto di Pordenone adesso e andiamo a vedere il messaggero Veneto di Gorizia. Così diamo un'occhiata anche all'articolo che apre le pagine isontine del messaggero Veneto. c'è la chermesse Gusti di Frontiera in primo piano. Ecco qua il titolo. Gusti in due giorni brucia il record di carne mangiata nell'edizione 2017. Chioschi toscani presi d'assalto. La novità del canguro è esaurita. Incremento di vendita pari al 25% nel banco mozzarella. I numeri dell'edizione di quest'anno di Gusti di Frontiera che sta registrando appunto un boom di presenze e anche di consumazioni. Gli stand toscani che in due giorni hanno già ventuto lo stesso quantitativo di carne che venne consumato lo scorso anno nell'arco di tutti e quattro i giorni di manifestazione. Mozzarelle andate a ruba con un incremento del 25% rispetto a 12 mesi fa e sorrisi a 32 denti anche al borgo oriente con affari cresciuti del 20% senza contare le griglie fumanti dei servi perennemente al lavoro e gli stand della carne di canguro costretti a chiudere per qualche ora in attesa di nuovi rifornimenti. Ed ecco ancora la doppia pagina dedicata a Gusti di Frontiera con la fiaba di Vierastello che anche in questa edizione trasforma i locali sfitti in una grande enoteca dal sapore antico. Le corti e i negozi abbandonati ogni anno attirano i visitatori attraverso un'atmosfera retro e l'aria decadente della strada. E poi nel taglio basso invece l'intervista a Daniele Bongiovanni, uno dei protagonisti del Salotto del Gusto, lo chef noto per le sue performance alla prova del cuoco ha parlato della rosa di Gorizia, rosa protagonista al Salotto Bongiovanni, opera d'arte. Chiudiamo il Messaggero Veneto e andiamo sulle pagine del Piccolo, l'edizione di Gorizia e Monfalcone. Vediamo in apertura la questione reddito di cittadinanza, primi dati 780 euro al mese per 12.000 in Friuli, Venezia e Giulia. Da definire i requisiti, i beneficiari potrebbero aumentare, sottolinea il Piccolo, l'incognita flat tax sul bilancio regionale. E poi vediamo invece, ritornando nel Lisontino, la Monfalcone riaffiora il cimitero dell'Amianto in cantiere, subito bloccati gli scavi nella zona del cantiere di Panzano. Sempre sul Piccolo, ma edizione di Trieste, vediamo in apertura sempre il reddito di cittadinanza, a centro pagina invece, questa fotonotizia che ci porta a parlare di un fatto di cronaca sorpreso mentre ruba il mare di Barcola per un acquario tedesco. Multa da 1.500 euro. Chiudiamo anche il Piccolo adesso e ritorniamo sulla prima pagina del Gazzettino del Friuli, con la quale avevamo aperto la parte di rassegna dedicata ai quotidiani locali, avevamo visto l'apertura con il fatto di cronaca del giorno. Andiamo a leggere anche gli altri titoli. A centro pagina si parla della fiera, a Udine ha aperto Casa Moderna, ieri un intervento dell'assessore Bini che ha detto lavoriamo a un'unica fiera. Da Casa Moderna parte la svolta alle fiere regionali. La regione lavorerà per affiancare un processo di unificazione del sistema fieristico regionale. Queste le parole di Bini. E poi è terziario, perse quasi 1.800 ditte. dal 2010 ad oggi si è registrato un calo. La maglia nera va al commercio. Quasi 1.800 ditte individuali, per la precisione 1.739, perse dal 2010 a oggi. Lo rileva l'indagine dell'osservatorio trimestrale del terziario, promosso dall'ente bilaterale e curato da Format Research e Ires FWG. Si tratta di lavoro dipendente che registra un calo dello 0,6% dal 2010 al 2018, seppur con dinamiche differenti nei vari comparti. La maglia nera va al commercio con una diminuzione di ditte individuali dell'11,6% in 8 anni. E poi vediamo contro la cimice in agricoltura. Ora arrivano i cani anti-insetto, scrive il Gazzettino. Andiamo di spalla e vediamo col diretti sale la protesta contro i prodotti taroccati. Dal salame San Daniele al pecorino friulano impazzano oltreoceano i prodotti taroccati. Sottotiro anche il Montasio. Per la cronaca furti in casa, i carabinieri arrestano tre fratelli sospettati di essere gli autori di una serie di furti nella bassa friulana. E sempre a proposito di cronaca vediamo. Bancomat presi di mira dai malviventi. Due case continue sono state fatte saltare in area a San Giorgio di Nogaro e a Teor. Andiamo nel taglio alto adesso. Vediamo l'arrivo in comune a Udine di un'altra auto elettrica. Al municipio arriva in regalo un'auto elettrica. Prosegue l'impegno di ERA per la promozione della mobilità sostenibile. E ancora i palazzi svelano chicche d'arte e di storia ai visitatori. Troviamo l'articolo nelle pagine curate dalla Fondazione Friuli sul Gazzettino. Per quanto riguarda il teatro, Giovanni da Udine, nuova ondata di prevendite per la stagione. Da martedì scatta la vendita di altri biglietti per altri spettacoli della stagione, a cominciare anche dai musical, da Dirty Dancing. E poi lo sport con l'Udinese a Bologna per rilanciarsi. Questo è il titolo del Gazzettino. Lo troviamo sulla prima pagina. Difficile d'accordo ma più abbordabile rispetto a quello di mercoledì con la Lazio. Il match di oggi al Dallara contro il Bologna può rilanciare i bianconeri. Ci sono tutti i presupposti per far manbassa, approfittando anche del momento non esaltante della squadra di Pippo Inzaghi e di Danilo, ex con il dente avvelenato che probabilmente merita vendetta dopo aver ricevuto il ben servito dal club friulano. Mister Julio Velasquez è tranquillo, ha il polso della situazione. La squadra è ben preparata, siamo forti, siamo pronti a dare il massimo e per la sfida ai Felsinei riproporrà un Berami tirato a lucido, dice il Gazzettino. Che adesso chiudiamo, chiudiamo questa pagina, chiudiamo questa prima parte del nostro buongiorno Friuli. Adesso come sempre ci fermiamo perché è il momento di fermarci per un po' di pubblicità. La linea passa dunque alla regia. Ci rivediamo tra qualche minuto per proseguire la nostra rassegna stampa spostando la nostra attenzione sulle pagine sportive dei quotidiani di oggi. Ci rivediamo tra poco.